Bene, ciao a tutti! Come vedete questa volta mi sono organizzato un po' meglio. Volevo farvi sentire come suona questa chitarra semiacustica dell'Ibanez, la GS83B. Questo è il modello vecchio che rispetto a quello nuovo non ha nulla di diverso se non qualche rifinitura, ovvero l'assenza del battipenna e i segnatasti fatti in maniera un po' più arzigogolata. Per i resti i pick-up e i legni sono gli stessi, quindi vi farò sentire questa e penso che la resa sonora del modello nuovo sia più o meno identica. Partirò col suono pulito, poi con un lieve crunch e poi con una distorsione pesante per farvi sentire quanto sia versatile questa chitarra, aiutata dal fatto di essere una semiacustica a cassa bassa. Ok, partiamo dal suono pulito. Partirò col pick-up al manico, poi i due pick-up assieme e poi quello al ponte. Che va? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Poi passiamo al suono crunch Poi passiamo al suono E poi adesso con la distorsione vera Intendo il metal muff Giusto per farvi sentire appunto Come questi pickup riescano a tirare fuori le unghie Nonostante questa chitarra non sia Propriamente una chitarra adatta al metal Nonostante questa chitarra Nonostante questa chitarra Grazie Nonostante questa chitarra adatta al suono